La magistratura è benissimo, sono felicissimo che ci sia la politica, la magistratura è un gioco democratico che se ci fosse un unico potere saremmo totalmente schiacciati, però non è che la magistratura è il bene o che le leggi sono il bene, il mito della legalità è un enorme cazzate, la mitologia della legalità. Hitler è andato a potere legalmente, non scherziamo, le leggi italiane, io ho lavorato con il bambino, ho lavorato a Palermo e quante volte sono andato in tribunale anni 50, per carità, adesso succedono tra le quali, con gli immigrati, con i figli degli immigrati, il bambino che rubava tre mele si faceva poi mesi e mesi di carti, andava in tribunale e vedevi le facce di merda dei giudici e degli avvocati e dei pubblici ministeri, io mi è venuto un odio allora per la magistratura che ho fatto una gran fatica e solo grazie a Falcone, a Borsellino, perché? Perché ti vedevi che cos'era la giustizia, no? La giustizia era un odio di classe istituzionalizzato contro i poveri e allora ti devi riporre queste domande, capito? La psichiatria, che cazzo era la psichiatria se non era una difesa della tranquillità pubblica, togliendo fiato, voce, vita a migliaia e migliaia di persone?